Vediamo, ciao a tutti, mi sentite? Adesso provo dal telefono, così tagliamo la testa al toro. Se qualcuno mi sente mi faccia il favore di dirvelo, perché questa sera facciamo un po' di fatica. Ciao a tutti, mi sentite adesso? Sì, adesso tutto a posto, ok, sto usando il telefono perché sennò è un casino, via si sente, ok, grazie, perché purtroppo non so come mai il computer stasera non ha voglia di funzionare e quindi facciamo la diretta col telefono e tagliamo la testa al toro. Vai tranquillo, va bene, grazie. Allora, ricominciamo. Ciao a tutti e ciao a tutte. Grazie di essere qui stasera nonostante questi inconvenienti. Io sono Federico D'Ambrosio, per chi non mi conoscesse sono autore di questo libro qua, La via del cuore. È un libro canalizzato per cui potete definirmi come una persona che fa il ponte tra i mondi. D'altronde un po' lo siamo tutti. Ognuno ha le sue caratteristiche, ha le entità con cui lavora. Le mie si sono definite guide perché appunto mi hanno dato una bella, mi accompagnano in un percorso di crescita personale. E quindi sono diciamo in contatto con questa entità per aiutarmi a guarire le mie ferite e possibilmente cercare di aiutare anche le altre persone che sono sul mio stesso percorso. E quindi cerchiamo insieme di migliorare la nostra vita quotidiana. Perché poi alla fine la via spirituale si riconduce sempre qui, sulla vita sulla Terra. Nel senso è bello aprirsi ai regni superiori, alle loro energie, a vedere come sono fatti gli altri piani dimensionali. Ma poi alla fine tutto converge nella nostra incarnazione qui, quindi nella nostra esistenza. E quindi bisogna sempre ricondurre il mondo dello spirito al nostro quotidiano. Perché se no tendiamo diciamo a fuggire. Perché stare nel corpo, quindi vivere la dimensione umana, la densità della materia, non è sempre piacevole. E quindi penso che qualcuno di voi possa darmene conferma. E quindi così. Da me sono venute appunto queste entità che sono anche definite come esseri di luce, di formazione cosciente. Per appunto aiutarmi a diventare un po' più cosciente. Perché la coscienza, per quella che io l'ho compresa, è una cosa che è a livelli. Per cui non siamo tutti coscienti allo stesso modo, come fra virgolette non siamo tutti evoluti allo stesso modo. Possiamo chiamarli piani dimensionali, ma nulla di nuovo perché. Lo stesso Dante definiva i gironi infernali come ci sono i sette cieli, fra virgolette. E quindi diciamo che ognuno fa il suo percorso e trova le situazioni che lo aiutano nel suo percorso di crescita. Ok, ciao fratello, ciao Marina. Vediamo se riuscirò a vedere tutti i vostri commenti perché adesso ciò col telefono, comunque si vede tutto, che bello. Allora, dicevamo, l'argomento di questa sera è un po' l'uomo multidimensionale. Perché? Perché io ho personalmente amici che loro sono legati a quelli che io schiamo il mondo tridimensionale, quindi ai sensi. E tutto il resto lo ignorano. Ed è, fra virgolette, da una parte limitante, no? Perché l'essere umano è molto di più. E allora, sicuramente voi che siete dei seguaci di Focus avete un background informativo d'eccellenza e quindi molte cose le conoscerete già. E io ve le dirò magari con le mie parole. E sentitevi liberi di comunicare con me, quindi di condividere, di scrivere, di farmi domande o semplicemente di esporre il vostro punto di vista, così arricchiamo la serata insieme. Allora, intanto cominciamo con Ilaria che ci dice Fede, come si fa a connettersi con il cuore? Per connettersi me lo puoi spiegare. Allora, Ilaria, intanto grazie e benvenuta. Arriviamo già alla fine, ma comunque non è un problema perché tanto lo ritoccheremo questo argomento. Per connettersi con il cuore bisogna riconoscere innanzitutto dov'è la nostra attenzione, ok? Perché? Perché l'attenzione non è solo legata a dove vanno gli occhi, no? Non è che se io vedo una cosa, la mia attenzione è lì. Quante volte, Ilaria, ti capita di cercare le chiavi di casa, magari ce l'hai lì sul tavolo e non le vedi? Questo esempio è abbastanza semplice, mette in luce che non sono gli occhi che vedono, ma il cervello che vede, quindi l'attenzione. Se l'attenzione, che fa riferimento al cervello, va a pescare nel magari film che hai visto ieri, o in un ricordo, o in una preoccupazione, automaticamente anche se gli occhi stanno sondando la stanza e vedono le chiavi, il cervello non la riconosce perché in quel momento è impegnato a osservare un ricordo, o una preoccupazione, o un evento del passato. Quindi il primo passo è cominciare a capire dov'è la tua attenzione, quindi dov'è diretta, no? Qual è, chiamano il pensiero dominante, quindi la focalizzazione dell'attenzione, dov'è? Tendenzialmente quasi tutti noi viviamo nella mente per una serie di elementi che poi magari li svisceriamo. Quindi adesso ti faccio un piccolo riassunto, poi magari approfondiamo meglio. E quindi fondamentalmente vivendo nella mente siamo prede della velocità della nostra mente e di tutte le informazioni che questa mente lavora. Per cui se, diciamo, hai delle preoccupazioni che ti fanno generare una marea di pensieri e di simulazioni per superare appunto una preoccupazione, in quel momento tu non stai vivendo, possiamo chiamare la realtà, quella dove il corpo è messo, no? Sei da un'altra parte, sei appunto nella mente e nelle preoccupazioni. Allora, l'ascolto del cuore è una pratica che mi hanno insegnato appunto gli esseri di luce, le guide, per cercare di uscire dalla mente. Anche qui, per chi ha fatto yoga, questa pratica è molto semplice, perché nello yoga, anche durante gli asana, gli asana, l'attenzione va rivolta sempre al respiro, quindi non si porta mai l'attenzione nel corpo, se non quando si fanno certe pratiche, no? Sempre legate allo yoga, ma tendenzialmente si cerca di restare nel respiro per non svaporare, per non andarsene in giro con i pensieri. Allora, l'ascolto del respiro è il primo passo, molto utile per cercare di capire come funziona il tuo meccanismo interno di attenzione. Nel senso, se tu adesso ti metti ad ascoltare il tuo respiro e ti concentri solo su quello, ti accorgerai che tu vuoi ascoltare il respiro, ma la mente continua a parlarti. È come un bambino che ti tira la maglietta perché vuole il giocattolo, no? Vuole le caramelle. E normalmente noi non ci rendiamo conto di questo. Quindi, obbligandoti ad ascoltare il respiro, automaticamente focalizzi l'attenzione in un unico punto, no? Che sono i polmoni e il respiro. Ok? Quindi facendo questo tipo di pratica, automaticamente togli energia al cervello. E quindi riesci anche a riconoscere i tuoi pensieri quando ti riportano su. Ok? E l'approfondimento di questa pratica, che mi hanno dato le guide, è l'ascolto del cuore. E quindi fisicamente portiamo l'attenzione prima sul respiro e poi fra un respiro e l'altro dovresti riuscire a sentire il battito del cuore. Ok? Che è più semplice. Poi andiamo a livelli. Passiamo prima dalla cosa più grande che sono i polmoni e poi fra un respiro e l'altro cerchi di sentire il battito del cuore. Ascoltando il battito puoi cominciare a entrare nella vibrazione che il battito emette. Ok? Quindi diciamo che fai un salto dimensionale. Approfondisci questa cosa. Non è più un aspetto fisico-meccanico ma è anche un aspetto energetico. Quindi entri nella vibrazione del cuore. Ok? Quindi piano piano, perché è una pratica, quindi devi fare appunto pratica. Ci serve un po' di tempo, a volte farei più difficoltà, a volte meno. Perché comunque quando siamo preoccupati non è facile restare in ascolto. Ok? Quando siamo arrabbiati non è facile restare in ascolto. Quando il mondo esterno ci cattura troppo l'attenzione non riusciamo a stare in ascolto. Quando le persone ci fanno stare male facciamo fatica a stare in ascolto. Il più delle volte reagiamo. Ok? Noi reagiamo alla vita. Non agiamo. Facciamo fatica ad agire. Il più delle volte reagiamo agli stimoli. Perché? Perché appunto partiamo dalla struttura biologica dell'essere umano. Federico se lo vedete ha due occhi, il naso, la bocca e le orecchie. Tutti questi sensori che cosa fanno? Portano informazioni al cervello. Il cervello sta dentro la mia bella calotta cranica e lui poverino sta in una scatola nera, non vede niente. L'unico modo che ha per vedere la realtà sono i sensi. Ok? E quindi quando i sensi vengono sollecitati da informazioni, luce, suoni, gusto, odori, tatua, automaticamente il cervello viene stimolato. E quindi cosa fa? Acquisisce dati, acquisisce informazioni. Molte volte dico che nessuno vede la realtà, proprio per questo motivo. Perché avendo questi grossi filtri abbastanza grossolani, nel senso che se voi avete studiato un po' di tecnologia, sapete che lo spettro della luce visibile è limitato. Ok? La scienza ha trovato i raggi X, gli ultravioletti, le onde radio, gli infrarossi e i raggi... Ce ne sono altri. Adesso mi parla... i raggi radar. Insomma, ci sono tante frequenze dello spettro elettromagnetico. Che le macchine che abbiamo costruito riescono a vedere, ma i nostri occhi non vedono. E quindi capiamo bene quanto la macchina umana ha dei grossi limiti, no? Ma anche l'udito. Cioè il cane senta gli ultrasuoni. Noi gli ultrasuoni non li sentiamo. Idem l'olfatto, no? Se non riscordo male, avevo letto che l'orso sente 400 volte di più gli odori di noi. Cioè immaginate un'amplificazione del nostro olfatto di 400 volte. Non riusciremo a vivere in certi ambienti. E quindi questo ci fa capire quanto lo scafandro che noi stiamo indossando ci isola dalla realtà. Percettiva del reale. Ok? Quindi dobbiamo intanto riconoscere che nessuno vede la realtà. E inoltre tutto noi abbiamo degli strumenti che decodificano la realtà. Per questo c'è il mito della caverna di Platone, no? Che queste persone sono legate, non riescono a vedere la luce, vedono solo delle ombre. Noi in questo mondo vediamo le ombre fondamentalmente. E attraverso queste ombre che vediamo abbiamo creato tutto il nostro modello di comunicazione e di interpretazione della realtà. Per cui essendo tutti dei grandi interpretatori, ci siamo convinti che noi vediamo le cose. Perché? Perché tutti bene o male vediamo più o meno allo stesso modo. Chi più, chi meno. Scusatemi un secondo, leggo un attimo Ilaria. Sì, Fede, una volta mi sono concentrato sul cuore e sono riuscito dal corpo mentre ero sveglia. Può capitare? Sì, sì, perché? Sì, sì. Cioè, tu Ilaria devi pensare, appunto l'uomo multidimensionale, no? Che noi abbiamo un corpo, ok? Ma è un po' come la macchina, ok? Tu prendi la macchina, vai a farti un giro, ci entra e ci esci. Serenamente. Perché tu sei la guidatrice della macchina. Allora, la nostra energia di coscienza, no? La nostra anima, diciamo, facciamo così, la nostra energia di coscienza entra ed esce dal corpo come vuole. Perché si sposta, dicevamo, no? La mente è una dimensione alla fine. Perché ti porta in un piano dimensionale dove tu puoi viaggiare più veloce della luce. Viaggia alla velocità del pensiero. Nel senso, se tu pensi a Marte e ti immagini una foto che hai visto, non so, dalla NASA, puoi immaginarti di essere su Marte e di vedere quella foto di Marte nella testa. Tu immagina che la luce, per passare dalla Terra a Marte, ci mette otto minuti. Mentre con il tuo pensiero o con la tua immaginazione di quella foto di Marte ci sei istantaneamente. Quindi già sei fuori dal corpo, in quel frangente che fai un pensiero, ok? E quindi anche quando fai l'ascolto del cuore, anche lì fai un salto dimensionale. Vai in quella che le guide mi hanno definito come quinta dimensione. Quindi la dimensione dello spirito, dell'essere, del sentire. Che è una dimensione dove le cose le riconosci senza conoscerle, le senti appunto. Tu senti che è così, senti che è vero. Quando una persona ti parla, al di là delle parole che lei ti dice, tu la percepisci come entità e quindi riconosci l'energia che questa persona ti sta emettendo. Magari a me era capitato che avevo un amico fenomenale, che lui mi parlava dicendomi una cosa e mentalmente mi diceva l'opposto. Per cui l'energia che mi arrivava era un controsenso, ok? Ci sono queste persone, nel senso siamo tanti sul pianeta Terra, ok? Quindi bisogna capire che la macchina umana, quindi io la chiamo la scimmietta, no? Perché l'essere umano è un sapiens, quindi è una scimmietta biologicamente evoluta. La scimmietta è il veicolo. È il veicolo per cosa? Per un essere. Allora, se questo essere arriva da Alfa Centauri, se questo essere arriva da Nibiru, se questo essere arriva dalla quarta dimensione, quindi un'entità mentale, se questo essere arriva dal pianeta, non ne so, Atlantide, se questo essere invece è un'anima che è nata qui sul pianeta e ha fatto tutto il suo processo evolutivo qui, è comunque l'involucro, la macchina umana è sempre quella. È l'energia che lo abita che è diversa e quindi essendo l'energia diversa ad abitarlo, anche la manifestazione di questa macchina, di questo corpo è diversa. Ok? Vado, torno un po' indietro perché vedo che state scrivendomi delle cose e io non le ho lette. Allora. Sta guardando, allora questo ti abbiamo risposto. C'era Paola. Fede, certe volte perdo la calma e la compassione, soprattutto in questo periodo di passaggio. Paola, benvenuta nel club! Io mi incazzo sempre. Ok? Dovrei essere un angioletto e invece mi incazzo ancora come un umano. Alla grandissima. Nel senso, c'è questa, possiamo definirla, scusate il termine magari un po' forte, mistificazione della spiritualità. dove una persona che è in cammino o una persona come me che in questo momento fa lo streaming, magari pensate che sia, caspita, arrivato. Do sto arrivato? Ok? Nel senso, sono nel percorso, siamo tutti nel percorso. E quindi è normale avere rabbia, dolore, cioè, inciampare. Come Gesù, no? Cade durante la Via Crucis. Padre, allontana da me questo calice. Eppure era Gesù. C'ha avuto paura. Non si è sentito la forza, non si è sentito collegato, secondo le scritture. È vero. Io uso i riferimenti cristiani perché ho ricevuto questa dottrina. Magari se avessi letto il Corano vi avrei raccontato un momento. Ho letto un pezzo di Bavagagita. Vabbè, ve lo dico dopo. La Gita, fondamentalmente, è anche lì. Ci sono una marea di elementi che sono come cultura anche diversi dal nostro, però il filo conduttore è sempre questa lotta interna nell'umano. Cioè, noi non siamo, nel senso, vi faccio un esempio. Io quando ho canalizzato questo libro, no? Caspita, ho sentito delle cose, appunto, sovrumane. Ho sentito l'amore di Dio, ho sentito l'amore costante delle guide che mi ha portato a fare, a tirare fuori dolori infiniti. E non ho ancora finito, oltretutto. E questa energia era così potente che a un certo punto mi sono illuso che era la mia, perché la sentivo. Invece era un dono che mi facevano, perché in quel momento la mia fragilità era così grande e la mia, come possiamo chiamarla, mi ero perso, no? Mi ero così perso in questo mondo, in queste dimensioni, che non capivo più niente, quindi chiedendo aiuto agli angeli, e gli angeli sono intervenuti. E mi hanno appunto aiutato facendomi fare le canalizzazioni che io poi ho trascritto nel libro Le Vede del Cuore. E nel trascriverle io sentivo tutte le cose che poi ho raccontato. E sono cose che quando io le rileggo adesso, a distanza di tre anni che ho fatto questo libro, sono incredibili. Dico, porca miseria, ma quanta roba! E come faccio io a integrare tutte queste cose? E come faccio io a essere tutta quella conoscenza? È impossibile. Sono troppo piccolo per fare una cosa del genere. Mentre in quel momento che dovevo fare quel tipo di lavoro, che era portare, iniziare a portare questo tipo di frequenza, perché poi, perché l'abbiamo anche visto, dopo lo tocchiamo un attimo. In quel momento io dovevo avere quel tipo di energia per far vedere che era possibile. Poi mi hanno detto adesso ritorna nella tua dimensione e cerca di mettere in pratica ogni giorno nel tuo quotidiano. E quindi anch'io mi arrabbio, Paola, cioè, sempre. A volte mi arrabbio anche per cose sciocche e perdo la calma. E perché? Perché certe cose non le ho ancora lavorate. E poi torniamo alla macchina umana. Cioè, questa bellissima scimietta rossa qua è sempre un animale, ok? È come tutti gli animali, ha le sue caratteristiche. Perché? Cioè, gli animali di per sé, se li hai trattati con amore, non hanno paura degli altri umani. Ma se li hai menati, se li hai trattati male, se li hai privati, questi animali diventano aggressivi. Allora, le nostre sofferenze, i nostri dolori, le cose che abbiamo vissuto e che ci hanno massacrato emotivamente, qualcuno purtroppo anche nel corpo è stato violentato, questa roba qua ti crea dentro delle reazioni, delle compressioni energetiche potentissime che appena si crea la condizione adeguata emergono. Emergono sotto appunto forma di rabbia. Ok? E quindi perdi la calma. Quando sei nel dolore, sei nella rabbia, sei nella sofferenza, non puoi avere compassione per gli altri. Perché in quel momento non riesci a stare dentro di te. Capite? Poi lo approfondiamo un attimo, questo meccanismo. Perché, allora, rallentiamo un attimo. Perché siamo entrati, Paola, direttamente nei nodi della sofferenza umana. E quindi siamo finiti, no, in quinta dimensione, nel mondo dell'anima, nel mondo del karma, siamo finiti nel mondo della coscienza, siamo finiti nei debiti karmici, nelle relazioni karmiche, siamo finiti veramente in un mare di informazioni da trattare. Cioè noi reagiamo, no? Dicevo prima, reagiamo alla vita. Quindi perdo la calma, mi incazzo, non riesco ad essere compassionevole. Perché? Perché da una parte stai vivendo anche le violenze di questi regni, io li chiamo i regnanti, perché non so chi siano veramente, no? Perché come vedete l'involucro di questi esseri umani che regnano, i governanti, sono sempre macchine, no? Come le nostre, a parte lo sguardo che glielo vedete che sembrano dei morti viventi, no? E' spento. Perché? Perché non sta dominando il cuore in quegli esseri. In quegli esseri domina la ragione, domina la mente. Io la chiamo alienazione mentale. Ok? Malanga diceva che sono involucri gestiti da entità che sta in un altro piano dimensionale. Io non so dirvi chi sono, cosa vogliono, però dalle loro azioni possiamo fare quella che viene chiamata ingegneria inversa e risalire ai loro scopi. Il loro scopo principale è venuto fuori a galla, no? Se ci pensate due anni fa, quando è partito il Covid, nessuno sapeva perché è partito, ma adesso sono diventati, si sono smascherati. Appunto, devi vaccinarti. Noi entriamo nel tuo corpo con elementi genici. E va bene, vogliono fare, vogliono conquistare l'umano. Non so cosa vogliono fare veramente, però è onestamente fino a un certo punto mi interessa. Io semplicemente voglio lavorare per la mia vita, per la coscienza. Ok? Perché quando siamo coscienti, quando siamo noi stessi, non ci facciamo bindolare. Nel senso non ci facciamo prendere dalla paura, non ci facciamo prendere da queste informazioni, no? Come dicevamo prima, l'essere umano decodifica la realtà attraverso i sensi. In un bellissimo film che si chiama Codice Swordfish, con John Travolta, lui diceva, citava Houdini, diceva Quello che l'occhio vede e l'orecchio sente, la mente crede. Questa cosa è bellissima perché è una verità. Quando noi guardiamo un film, ci medisimiamo a tal punto che sentiamo, no? Se guardiamo un film horror ci viene paura, cominciamo a sudare. Ok? Se guardiamo un film d'amore ci batte il cuore, ci viene da piangere. Se guardiamo un film comico ci viene da ridere. Allora riusciamo a immedesimarci. La cosa bella del cervello, della mente, è che si può proiettare. Quindi l'immaginazione non è una cosa negativa, non esiste il negativo. Esiste semplicemente il modo di utilizzare una certa proprietà dell'essere umano. Il coltello è negativo, ma se lo usi per tagliare il pane lo condividi. Se lo usi per coltellare un passante sei un assassino, ma il coltello è sempre il coltello. Allora in una condizione è benefico, in un'altra è malefico. Quindi è l'energia che lo guida, la coscienza che lo guida a fare la differenza. Tutte le cose sono neutre, sono ciò che sono. È chiaro che la lava brucia e il pane è nutre. Difficilmente il pane brucia, a meno che non lo fate abbrusturire, ok? Cioè quindi le cose sono ciò che sono, è come noi ci relazioniamo a loro e le proprietà che hanno che possono essere nocive. Non so, la radioattività, un oggetto radioattivo ci uccide, ma l'utilizzo in medicina anche se in parte dannoso e inquinante ha permesso di fare la risonanza magnetica, l'attacca, tutta una serie di tecnologie che possono essere di aiuto a volte salvare le vite. Allora l'utilizzo magari della radioattività per l'atomica può essere distruttivo perché ha fatto milioni di morti oppure può essere nocivo per l'ambiente, vediamo Fukushima, però usato in campo medico con certe tecnologie ci può essere utile. Eppure quell'elemento lì è mortale. Ok? Quindi gli elementi sono ciò che sono, sono proprietà della natura. Anche noi abbiamo delle proprietà e dobbiamo imparare a riconoscerle. Allora la rabbia, la reattività è tutta legata agli istinti. Ok? Gli istinti animali che il nostro veicolo umano, io la chiamo sempre la scimietta, la scimietta possiede. Perché come animale io mangio, faccio cacca e pipì, sudo, mi devo lavare, devo stare al caldo, devo stare al fresco, ho bisogno di dormire, ho tutta una serie di necessità biologiche, tridimensionali, fisiche, terrestri. Ok? I veicoli sono tutti uguali. Tutti i veicoli, anche in strada, devono avere delle ruote e devono avere del carburante e dell'energia per far accendere l'impianto elettrico. Se no non funziona. Cioè ci sono tre caratteristiche identiche per tutti i veicoli. Tutti i veicoli hanno una batteria, anzi no, potrebbero avviarsi a mano. In quel momento siete voi la batteria. Se avete una dinamo avviabile a mano, nell'antichità, nel novecento, all'inizio lanciarono le batterie, bisogna avviare la macchina a mano. Ok? Quindi serve un'energia che vada ad accendere le candele del motore e poi serve un mezzo di trasmissione di questa energia alla terra, che sono i copertoni. Ok? Quindi diciamo, queste macchine umane hanno delle caratteristiche comuni. è l'energia dell'essere che lo guida che fa la differenza. Quindi bisogna riconoscere quale essere hai di fronte. E tu mi dici, come faccio a vederlo se la macchina è sempre quella? lo vedi dalle sue manifestazioni. Ok? Da quello che quell'energia cristallizza nella realtà. Io esempio sono in relazione appunto con questi esseri di luce. Queste entità coscienti che sono a supporto della nostra evoluzione e il loro compito è farci evolverci dandoci informazioni di coscienza. E quindi che cosa faccio? Come attività lavorativo sono un informatico. Quindi io tratto l'informazione. Ok? L'informazione che cos'è? È impalpabile. Diventa palpabile quando la stampi a computer o la stampi su carta. Ma è un'energia. Un'energia che può essere alimentata, no? Può alimentare la coscienza o può depistare la coscienza. Dipende è come io uso le informazioni. Ok? Se il fine che ho è il supporto, l'aiuto, appunto la coscienza, tutte le informazioni che vi fornisco sono per il vostro benessere o per la presa vostra di coscienza di voi stessi, del vostro veicolo umano. Se invece io volessi manipolare per avere dei seguaci dovrei usare tutta un'altra serie di linguaggi. Io mentre sono abbastanza cristallino vi dico guarda le cose che mi hanno detto sono queste sono tutte scritte qua avete esattamente quello che ho ricevuto tranne le parti personali mie quelle che mi toccavano proprio sul diretto quelle non le ho messe perché tanto riguardavano solo me. Ho messo semplicemente tutte le parti che riguardano noi umani come entità come persone. Allora veniamo un attimo a noi perché se no parto per la tangente e ci perdiamo. Allora quindi Paolo spero di averti risposto un pochettino nel senso è normale ok avere queste reazioni soprattutto quando vedi la manipolazione perché appunto queste persone questi esseri queste entità i regnanti chiamateli come volete loro stanno manipolando usano la paura della morte che è la paura cardine dell'essere umano contro l'essere umano stesso usano la disinformazione la controinformazione il dividito e t'impera usano la come si chiama c'è una tecnica che adesso mi sfugge il nome comunque vi dicono una cosa è completamente il suo opposto per mandarvi in confusione per mandarci in confusione ok e quando entriamo in confusione noi perdiamo il senso del reale perché non abbiamo un riferimento perché è una cosa che intanto non conosciamo il covid non sai che cos'è un nome che sai che è legato a una cosa che ti può uccidere quindi ti fa paura poi c'è la gente che muore c'è la gente che si vaccina c'è la gente con la mascherina c'è la gente che ti distanzia non ti puoi toccare non ti puoi abbracciare ti crea ansia questa cosa ok se tu sei vittima dell'informazione perché poi usano le parole fatte in un certo modo ti fanno vedere certe immagini usano certi toni cioè sono intelligenti queste persone queste entità sono intelligenti ci mangiano gli gnocchi in testa come intelligenza ok ma come è il detto il diavolo fa le pentole ma non i coperchi ok cioè queste entità queste persone possono abbindolare la vostra mente possono farci piombare nella paura ma Dio che sta in noi a quello lì non lo freghi mica allora per questo è arrivata la via del cuore no è arrivata per dire raga usciamo dal labirinto della mente perché c'è pieno di mercanti che ti stanno vendendo le peggior porcate torniamo nel cuore nel sentire ok fai l'ascolto del cuore questo esercizio di portare l'attenzione in basso prima nel respiro e poi nel battito ti permette di rallentare rallentare e rallentando vedi che tutta questa frenesia questo bla bla infinito è una frequenza in cui tu ti poni con l'ascolto non è la realtà io adesso per cos'è mezz'ora che saremo collegati vi ho dipinto dei pezzi di realtà ma la realtà è che siete vivi e come vivete la vita perché poi è qui che si gioca la quinta dimensione bla bla infiniti poi silenzio e nel silenzio c'è il disagio oppure c'è la pace oppure dici boh che palle cosa fa sto qua sta zitto si sta zitto sta zitto e vi dice ascoltiamoci un secondo che cosa sentiamo cerchiamo di ascoltare il cuore che cosa sentiamo e di botto non siamo più vittime dei sensi non siamo più vittime della mente siamo posizionati nel sentire in quinta dimensione e qui semplicemente esistiamo non c'è più bisogno di apparire semplicemente tu sei quella cosa lì quella energia lì e allora improvvisamente tutto perdono di forza tutti i nostri ragionamenti tutti i nostri attaccamenti resta solo il mio stato d'animo e la relazione che ho con me stesso come sto dentro di me sto bene sto male mi sento tarantolato non riesco a stare fermo quindi sono scosse elettriche che dole il corpo mi viene da piangere mi viene da urlare mi sento soffocare mi viene l'ansia oppure mi sento felice sento la pace sento la gioia sento l'amore mi sento avvolto da un'energia che non è la mia sono i miei angeli è l'altro lato del velo che bussa la mia porta e mi dice ehi sono sempre qui cosa pensi di essere solo lì dentro guarda che la tua non è un veicolo è un autobus siamo tantissimi tu sei il volante e noi siamo dentro di te viviamo in te ti accompagniamo ad ogni passo anche quando ti senti solo anche quando ti senti perso anche quando non sai che strada prendere noi siamo la vita e siamo sempre qui dentro di te a fianco a te non ti lasciamo mai e di botto adesso torno un po' nella mia umanità torno in terza dimensione e di botto tutto questo di cui abbiamo parlato prima perde di significato perde di importanza perché? perché smettiamo di alimentare la mente con tutta la sua irrealità immaginativa ed entriamo in uno spazio sacro lo spazio del mondo dello spirito lo chiamano io lo chiamo quinta dimensione è la vita semplicemente è la vita che ci vive dentro e la vita non ha fretta i gatti sono maestri non hanno fretta avete mai visto un gatto che ha fretta? il cane è un po' fretta ma il gatto non ha fretta forse quando gli date i croccantini o gli aprite le scattolette si agita un po' ma fa le moine ok dai vado un po' avanti spero di aver reso l'idea un attimo no? di questa energia d'amore che c'è realmente dentro l'umano che cosa significa andare dentro ascoltare e sentire per un attimo tutto perde di forza il mondo esterno i sensi la mente è come la lumaca che dalle antenne che sondano l'esterno si ritrae dentro il guscio si chiude in se stessa si protegge e non è un isolamento è un ascolto profondo allora Antonella allora gli esseri di luce e non credo che siano i Deva nel senso che non li conosco e quindi non so dirtelo però non penso che siano quelle entità quello che mi hanno definito detto a me è appunto nel capitolo lo sta i Regni della Luce l'indicesimo capitolo e si vengono vengono definiti informazione cosciente perché poi anche lì quando sono entrato in contatto con quel tipo di energie ne ho sentite varie nel senso ho beccato un paio di entità diverse alcune erano me lo ricordo perché ci erano rimasto molto male erano fredde non avevano sentimenti questi qua erano chiamano entità a supporto della sopravvivenza umana dirigono le menti ok le dirigono come quando una persona non ha volontà manifesta quindi si lascia guidare dalla vita ci deve essere ci sono delle energie energie che simultaneamente coordinano la vita ok e quindi creano le sincronicità creano le coincidenze evitano un sacco di rotture di scatole no cioè magari ti danno quella sveglia nel momento che stai per andare addosso a qualcuno ci sono energie che sono a supporto dell'entità umana però alcune non sono non hanno sentimenti perché quel tipo di entità agiscono nella mente poi c'erano altri esseri di luce che invece agivano in tutto l'essere umano sono quelle che chiamo guide ok loro agivano sia nella mente sia nel corpo ma anche nelle somatizzazioni nella cristallizzazione energetica per cui non so dirti esattamente dovrei vedere idea e capire che energie sono però non ho letto niente a riguardo quindi non ti so rispondere Antonio hai finito il percorso sei in sesta dimensione eterea con queste miei 87 vite vero? scusami il termine sti cazzi ti ringrazio Antonio se tu le vedi va bene nel senso io arrivo fin qua mi limito a quello che ho ricevuto abbiate pazienza perché ho l'approccio proprio dell'informatico finché ho fatto esperienza per me è riconoscibile il resto è un bel punto interrogativo se tu Antonio riesci a vedere fin qui ti ringrazio perché mi fai capire che c'è ben altro spero prima o poi di riuscire a vederlo anch'io ma al momento il mio massimo è questo ancora i prossimi due anni beh io spero comunque di elevarmi anche fino all'ultimo respiro perché se no che faccio il resto del tempo? cioè se poi mi dici che fra due anni trasmigro e divento un bodhisattva oh mi bacio le mani mi fa molto piacere però onestamente per come io vivo me stesso quindi a cena bianca da camminare ragazzi saranno due forse hai sbagliato saranno due milioni di anni comunque Antonio ti ringrazio tanto Fete parlaci no aspetta questa l'abbiamo già letta scusatemi ciao Claudia ciao Ale ciao Luisa ciao Sabrina oh Sabrina ciao Alessia questo l'abbiamo già letto come mai che è tornato indietro più si sente allora più si entra nello spirito e maggiormente si sente il bisogno di giustizia di equità di rispetto anche per me è difficile rimanere indifferente al dolore e i soprusi credo sia normale arrabbiarsi eh sì nel senso si può o no entrare in quinta dimensione e quindi sentire quest'amore infinito il discorso è che non si riesce sempre a starci nel senso io non ce la faccio all'inizio ci restavo molto di più adesso sono molto più calato nel mio umano e il discorso è che la consapevolezza è diversa nel senso ho l'esperienza avendo l'esperienza alle spalle e potendoci andare nel senso in questo prima ci siamo andati insieme automaticamente sai che c'è sai come funziona la baracca fra virgolette nel senso che è tutta tutta agitazione per niente è l'identificazione quando ti disidentifichi da tutto e ti ricolleghi alla vita e basta senti la vita la vita è amore la vita è Dio mi dicono le guide quindi senti quell'energia dove va bene allora lì puoi essere compassionevole puoi accettare le differenze puoi accettare i limiti ma quando sei nell'incarnazione quindi nel vissuto dicevamo prima se il cane è stato bastonato e non è tanto amichevole perché ha paura di essere bastonato ancora è semplice il meccanismo cioè i meccanismi biologici sono semplicissimi e che quando li razionalizzi diventano cose allucinanti e astruse compressioni esagerate probabilmente è vero quello che dice Malanga sì beh Malanga ha fatto un sacco di cose ne ha dette tante e molte cose sono interessantissime e anche secondo me alcune sono vere però sai io personalmente sono come San Tommaso se non ci metto il dito non ci credo e quindi nel mio caso io vi riporto l'esperienza che ho fatto che non è un'esperienza nel senso non è venuto nessun essere con l'astronave con cioè è vero che ci sono questi esseri no perché come abbiamo noi la macchina biologica OGM ci saranno tante altre scusate ci saranno tanti altri veicoli no biologici o non biologici per tante altre entità le entità con cui sono entrato in contatto io sono entità che dimorano nella vita stessa ok quindi noi dobbiamo vedere l'umano come una torta a strati cioè la granella il pan di spagna e il cioccolato l'altro pan di spagna la crema e poi c'è il ricoperto di cioccolato e poi c'è tutta la decorazione questo magari è l'essere umano poi ci hanno messo un bel vetro sopra e noi vediamo noi stessi dall'alto quindi non vediamo tutto quello che c'è dentro la torta vediamo solo un'immagine di noi stessi che è l'immagine che vediamo con i sensi ok lo chiamano tant'è il velo di maia noi siamo ciechi alla vita ma avendola dentro la riconosciamo perché la possiamo sentire e quindi molte cose nel senso cioè molte entità vivono già in noi molte entità extradimensionali extraterrestri si sono incarnate e stanno portando chi informazioni di coscienza chi tecnologie cioè perché se no non si spiegherebbe perché un umano caspita prende la laurea a otto anni e l'altro è zappa la testa nel senso come si dice turdo come una scarpa perché uno sì e l'altro no cioè se la macchina quella è se il cervello le connessioni neurali quelle sono che cos'è che fa la differenza è la coscienza la coscienza di quell'essere quindi l'energia di quell'essere l'energia di coscienza quindi faccio un esempio se voi mi fate parlare le lingue sono una chiavica ma dentro io avevo io riesco a parlare con le macchine scrivo codice per i computer ma l'ho sempre avuta questa cosa fin da piccolo era un'energia che mi chiamava non so come spiegarvelo è come con gli spiriti guida quando ho fatto tutto un percorso per riuscire a entrare in contatto con loro ma quando ho preso coscienza mi sono accorto che erano sempre stati lì e che per una vita non sono stato pronto ad aprire quelle mie porte interne ma erano energie che già mi caratterizzavano dalla nascita ok e sono potenziali inespressi che col tempo e l'esperienza e il vissuto si cominciano ad esprimersi quindi alcune entità portano frequenze altre portano coscienza altre costruiscono mondi interi io ho degli amici che si fanno in quattro costruiscono stanno dietro gli orfanotrofisti costruiscono villaggi hanno una forza incredibile che io onestamente non riesco ad avere però loro magari non sanno scrivere una riga di codici mentre per me a volte è naturale e anche qua cioè sapete quante volte mi sono messo davanti al computer a dire adesso vado avanti con il mio programma guardo il codice non capisco che cosa sto guardando mentre altre volte sono sempre la stessa persona mi metto lì e mi sembra di scrivere a un amico e sto scrivendo tecnologie e com'è possibile la scimmia è sempre quella la volontà di scrivere la cosa è sempre quella ma ci sono delle volte che c'è la finestra che si apre e vedi tutto come quando sei in quinta dimensione e ci sono delle volte che la finestra è chiusa e non vedi niente e quindi c'è sta scimmia sapiens che sta guardando delle parole che non riesci a capire ok allora qua ci fa capire no a me me l'ha fatto capire molto bene quanto veramente siamo abbandonati noi stessi zero nessuno è abbandonato a se stesso è la nostra immaginazione è il nostro dolore è la nostra illusione dei sensi che ci fa sentire abbandonati a noi stessi ma siamo tenuti in palmo di mano sempre costantemente H24 anche quando dormiamo non abbiate paura che vi portino via i viaggi astrali e mazzi che volete che facciano contro Dio ragazzi cioè noi dobbiamo un attimo ricalibrare questa visione cosa possono fare queste entità contro la forza di Dio niente perché è Dio stesso ad alimentare la loro vita capite cioè non è che queste forze fra virgolette del male come le chiama qualcuno sono disconnesse dal divino sono dentro il divino sono parte integrante del divino il divino opera in loro anche a Dio non sfugge niente niente non si muove foglia che Dio non voglia Dio è inteso come energia universale assoluto alfa e omega ok inconoscibile ineffabile innominabile non è il Dio della Bibbia dell'Antico Testamento ok che cita Biglino no non parlo di quel Dio lì io parlo dell'energia universale il re quell'energia lì per me è Dio c'è un capitolo comunque nel libro per chi voglia approfondire c'è Marina Marina sì ciao Marina allora il segreto è vivere qui è ora eh già ma quanto riusciamo a viverlo il qui è ora se sei nella mente non ci riesci se sei nella paura non ci riesci se sei nel cuore ci riesci perché sei cosciente a quello che ti sta accadendo realmente se no sono filtri cioè noi viviamo tutti sempre il qui è ora ma abbiamo una marea di filtri filtri mentali che ci si isolano dal contatto reale col qui è ora comunque dicevi il segreto è vivere il qui è ora esattamente come si vive in 5D le dimensioni sono uno stato della coscienza stessa sono la manifestazione del tuo grado evolutivo sì esatto bravo complimenti hai riassunto bene poche parole concise e manifeste sì sì è vero bisogna lavorare per stare lì perché non è sempre facile come dicevamo prima se ti prende l'incazzo se ti prende lo sconforto se ti prende quella cosa lì tu vivi sempre il qui e ora ma come lo vivi con quale energia non è l'energia dell'amore che ti sta dominando in quel momento ci sono altre energie con cui sei in relazione ciao Sabrina Fede se puoi se lo desideri potrei sapere a quale famiglia cosmica appartieni a che ne so Marina io qualcuno mi ha detto che so so pleiadiano io sono nato a Sanremo nel senso non non mi sono posto il problema nel senso sapere che arrivo da le pleiadi da Alfa Centauri dalla tazza del water o da Nibiru da Atlantide o da dove caspita uno può arrivare non mi cambia il mio vivere qua ci sono cose con cui ho pianto tanto quando leggevo gli scritti di Crayon piangevo tanto e sentivo richiamo di casa ma come quando ho parlato con le guide sentivo richiamo di casa e quell'ora mi hanno detto noi siamo informazione cosciente vediamo sappiamo siamo esistiamo siamo dentro e fuori la tua dimensione e quindi non riesco a dirtelo io faccio il mio pezzettino sono come una cellula di un gigantesco organismo e vedo al di là del mio naso e sono qua proprio per raccontarvi questa magia che mi è accaduta e vi riporto come posso tutta l'energia che mi è stata donata però certe cose te le ho detto un po' come quando mi ha parlato Antonio prima io alzo le mani perché non ne ho coscienza e quindi non so neanche di che cosa parlarvi allora Sabina c'è la paura della morte che condiziona chi è andato vicino e chi ci è andato vicino non teme nulla e sì sì diciamo che la paura della morte è un istinto di sopravvivenza di conservazione è anche un meccanismo mentale che il cervello cerca di non esporti a eventi pericolosi è chiaro che chi ha fatto quel tipo di esperienza o chi l'ha abbracciata in toto non la teme più però i meccanismi interni ci saranno sempre e il come vivrà questa energia la viverà riconoscendola dice ah sì è l'energia è la paura della morte che mi sta bussando nuovemente la porta ma so come trattarla non ne sono più vittima ma semplicemente coesistiamo insieme ok io la vivo così nel senso me l'ha fatta sentire all'infinito la paura della morte però mi accorgo nella mia vita nel mio quotidiano appunto che a volte entra entra in gioco e mi fa reagire ok mi fa reagire e quindi divento più dinamico cerco di risolvere velocemente le cose perché? perché voglio passare subito oltre non ho voglia di sentirla invece il discorso è ci entro dentro con tutti i piedi me la vivo mi faccio cogliere dalla disperazione della paura della morte comincio a piangere comincio a urlare mi libero dalla sofferenza automaticamente liberandomi da tutta questa paura di morire poi si crea questo spazio dove a un certo punto non la temi perché c'è così tanto spazio che la paura della morte diventa piccola ma devi farne uscire di Roma Gloria mi piace tantissimo grazie allora ma perché continua caspita scusatemi ma col telefono faccio un po' fatica a leggervi ok ce l'abbiamo fatta allora Paola giustissimo a me infatti non fa paura la morte ci sono state la sofferenza che io vicino mi fa rattristare e lo so la sofferenza è così nel senso per risonanza a volte richiama la nostra e poi si va in empatia nel senso senti la loro a me capita quando faccio i consulti individuali che sento le cose loro e quindi a volte piango anch'io con loro perché sento il loro dolore oppure sento i loro pensieri e non riesco più a capire se sono io che penso se sto ascoltando di loro cioè perdo i confini però la morte di per sé fa paura perché la scimmia muore cioè voi pensate che la biologia muore voi pensate che il cervello che sovrintende della biologia ed è creato appunto per prevenire situazioni pericolose non ha soluzioni alla morte già va in crash tant'è che col covid la gente è andata fuori non tutta fortunatamente il che evidenzia che di coscienza ce n'è tanta non siamo proprio tutti addormentati però molti sono andati fuori di testa molti si sono rinchiusi nelle paure quando camminate vedete quelli con la mascherina alta fin qua che hanno paura anche di incrociare il vostro sguardo e loro sono in preda al panico stanno vivendo un incubo e non è discriminazione nel senso mettete la mascherina a me non mi frega niente è per capire l'energia che abita questi veicoli umani loro la paura gli stanno mangiando vivi e poverini capite perché non è che i nostri governi gli paghiamo il canone no non è che la RAI ti insegna a stare bene la RAI ti fa morire di paura ma è giusto visto che siamo noi a pagarla teoricamente no quindi la nostra società è malata ma è malata alla radice perché hanno piacere a tenerci nella malattia si inventano le cose più assurde per tenerci nel dolore nella paura nella sofferenza e l'unica cosa che ci salva è la coscienza è il divino che è in noi e poi le persone che sono in cammino con cui ci possiamo riunire e condividere e camminare assieme infatti Enrico grazie alla rete ha fatto un enorme lavoro per aiutare noi a stare meglio ci fornisce un sacco di supporto ho trovato persone incredibili quindi grazie Enrico e grazie a tutti i tuoi collaboratori che meraviglia il silenzio il silenzio quando riusciamo ad ascoltarci e ad ascoltarlo perché a volte il silenzio è ibernazione è congelamento stai canalizzando un pochettino mi stai parlando di prima scusate io sto leggendo i messaggi in arretrato abbiate pazienza sì prima è arrivata un pezzettino di canalizzazione infatti non so neanche cosa vi ho detto speriamo cosa è bella allora io nel silenzio ho tanta pace amore e meraviglia sento il bisogno di stare nel grande silenzio eh sì perché alla fine ascolti nel silenzio ascolti nel pianeta verde c'erano i concerti di silenzio no? sì sì e come? mi piace molto questa similitudine con la lumaca ok cosa vuol dire? perdere entusiasmo nella vita quotidiana secondo te e l'anima? l'aria beh quando è che perdiamo entusiasmo? quando il bambino interiore è rinchiuso nella stanza buia ok quando la sofferenza è tanta è inascoltata e allora tutto perde di magia tutto perde di luce tutto diventa grigio opaco già visto già sentito non ci meraviglia più niente vediamo solo fra rigolette la morte in faccia e aspettiamo che ci abbracci aspettiamo di morire per poter rinascere e ricominciare e si è sempre fatto così nel passato no? la cosa che mi sono venuti a dire è che noi possiamo guarire il nostro karma ok perché quello che ci è capitato no? il famoso cane che è stato massacrato di bastonate che ha creato un cane aggressivo quindi pauroso del prossimo perché ha paura di essere picchiato questi dolori che ci portiamo dentro quindi che sono legati alla nostra anima no? perché il nostro karma è frutto delle nostre azioni attuali e pregresse è chiaro che uno dice perché la mia scimmietta deve scontare il karma della scimmietta che ero nella vita precedente perché l'anima è quella e quindi l'anima si porta dietro il suo bagaglio quindi si porta dietro la coscienza acquisita che ti permette di vedere un sacco di cose che altri non vedono ma si porta dietro anche le sue questioni risolte con le altre anime perché poi alla fine non è che è la punizione divina c'è semplicemente un principio causa-effetto azione e conseguenza quindi se io nella mia vita da non so ai tempi del medioevo mi sono messo a servire un regnante tiranno e ho tagliato teste a destra a sinistra ho violentato persone ho saccheggiato villaggi ma secondo te quelle anime con cui sono entrato in relazione sono in debito o sono in credito nei miei confronti allora io in qualche modo devo poi risarcirle magari non in quella vita perché in quella vita sono un tiranno saccheggiatore assassino e violentatore piano piano nelle vite successive riequilibro ok porto amore dove prima ho portato sofferenza perché l'obiettivo ultimo dell'evoluzione è l'amore è il ritorno a Dio tutto torna a Dio per quanto c'è la separazione quindi la disidentificazione da Dio dalla creazione e quindi dall'identificazione con la propria essenza quindi la propria essenza è sia all'interno di Dio ma al tempo stesso ne è anche fuori nel senso è autonoma non è fuori è come ok mi è venuta in mente l'immagine avete presente quelle palline di Natale allora immaginate Dio come la pallina di vetro con dentro l'acqua noi siamo i brillantini che sono entità autonome e indipendenti ma che comunque si muovono all'interno della sfera questa è l'immagine più semplice che possiamo dare del creatore e della creatura e quindi tu sei il tuo brillantino e ti scontri con gli altri li uccidi li fai ma a un certo punto devi trovare la pace l'armonia la quiete devi trovare il tuo spazio riconoscendo che anche gli altri hanno il loro spazio anche gli altri hanno diritto di esistere come lo hai tu e anche gli altri hanno diritto di avere cose come lo hai tu il problema è che all'inizio non abbiamo questo questo amore abbiamo la gioia di essere potenti forti dominanti despoti perché dà un sacco di forza regnare sul prossimo lo vedete i branchi i capi branchi i leader di governo i leader politici si sentono fighi a stare in cima alla scala sociale e non vogliono mollare l'osso sono pronti a fare carte false a uccidere a sporcare a inquinare a mentire perché perché fa figo ti senti importante poter schiacciare il prossimo ma quanto ti costerà questa azione in questa vita magari la passi nisce nella vita prossima andrei a pulire la merda scusatemi vado avanti e quindi scusami non mi hai detto un'altra cosa entusiasmo nella vita quotidiana e quindi lo perdi in quel caso te l'ho raccontato prima e l'anima che cosa fa l'anima dicevamo prima vuole tornare l'amore per cui per quanto tu perda l'entusiasmo l'anima cercherà sempre il modo di ricondurti a lei attraverso gli eventi e gli accadimenti a volte ci dà dei messaggi forti io sono uno tosto per quanto voi magari adesso vedete la versione migliore di me mi sono dovuto spaccare molto nella vita spero di non doverlo più fare ma l'ho fatto nel senso una volta dovevo cambiare ambiente ho fatto un incidente con la macchina e lì ho capito ma ho dovuto spaccare la macchina e non una volta sola capite perché perché sei tosto il tuo io non molla l'osso le paure le convinzioni la visione limitata ti impediscono di cambiare perché il cambiamento richiede di affrontare la paura della morte perché perché uno non cambia costa fatica deve riprogrammarsi il cervello deve mettersi nella condizione di disagio di sentirsi sbagliato di sentirsi incapace di essere ripreso rimproverato di sentirsi sfigato a che cazzo gli piace vivere così allora tanto vale essere padroni di un granello di sabbia e su quel granello di sabbia costruire il proprio impero per sentirsi a posto il problema è che l'anima si stufa a stare tutta la tua esistenza su un granello di sabbia e quindi ti scombina un po' la vita e ti fa fare altro ti porta a fare altro la vita stessa ti conduce a volte ti dà una spinta a volte ti sussurra l'orecchio e tu ci vai per questo bisogna imparare ad ascoltarsi perché se non ti ascolti fai scelte di di me r d a e poi te la ciucci è quello il problema nel senso tu puoi fare tutte le scelte che vuoi ma c'è sempre l'azione conseguenza causa effetto quindi cioè te la vai in un certo senso ce la andiamo a cercare perché perché ci serve alla fine prendere la facciata per terra ci serve perché se no non la prendiamo quanti di voi in questa vita hanno ucciso il prossimo probabilmente nessuno di queste 70 persone che in questo momento è collegata perché perché avete una coscienza evoluta l'avete già fatta quell'esperienza l'avete già fatta e se che a milioni di persone ma poi cosa vi è rimasto in mano quanto avete dovuto lavorare per riequilibrare il karma e dalla sofferenza passare all'amore quindi questa vita lungi da voi ma al massimo le mandate a quel paese ok spero di averti risposto cara quasi stanchezza di vivere eh ha sofferenza Ilaria devi piangere allora torniamo un attimo qua Ilaria e il bambino interiore cioè tu devi pensare che quando l'anima deve riprendersi il suo bagaglio no cosa fa nasce nella famiglia dove l'energia dei genitori o del sistema familiare le dà esattamente quel bagaglio che lei ha lasciato indietro e quindi quella famiglia lì ti castiga nel senso ti schiaccia ti fa stare male ti fa sentire inadeguata ti punisce insomma ti dà tutto quello che ti serve per obbligarti a fare un certo percorso di vita e quindi a un certo punto arrivata l'età adulta che ormai il bagaglio è già integrato l'anima deve fare il lavoro inverso no cioè prima si mette lo zaino addosso e quindi nasci nella famiglia che ti castiga e ti riempie lo zaino di mattoni poi deve fare il lavoro inverso svuotare lo zaino dei mattoni e quindi serve l'amore per fare questo percorso perché l'amore è la via più veloce per trasformare questo karma perché Dio non ci vuole male allora noi ci dobbiamo riprendere ciò che è nostro ma non è una punizione allora grazie agli angeli alla tua anima alla tua vita ti verranno dati gli elementi per poter tirar fuori il dolore e quali sono questi elementi la stanchezza di vivere la sofferenza allora la sofferenza quando è inascoltata crea distacco separazione la vita grigia che dicevamo prima mentre quando la sofferenza viene ascoltata ok come facevamo prima col silenzio lì viene fuori il lamento la rabbia il dolore la disperazione ed è proprio lì che dobbiamo andare lo so che fa paura lo so che non è bello lo so che preferirei a volte mangiare un bel cucchiaino di di maionese però va fatto è l'atto di amore che fai tu verso te stessa ok tu prendi il tuo tempo il tuo spazio la tua attenzione è partito è partito Google mi stava raccontando delle cose non so come mai il telefono si fa le vizie e dicevamo Ilaria e quindi niente bisogna bisogna iniziare ad amarsi ah ma il prossimo tu o come te stesso diceva Gesù facile da dirci difficilissimo a farsi perché la sofferenza che abbiamo dentro è tale che abbiamo imparato a gestirla capisci volente o nolente tu sei andato avanti nella vita come me c'è Ilaria adesso scusami uso te perché mi hai scritto così ma non che io sia tanto diverso e molte altre magari persone come te come te e me cioè ce la portiamo noi dentro la nostra sofferenza e l'atto di amore più grande è farla uscire tant'è che si parla di bambini interiore perché i bambini appena nati non parlano non ragionano non riescono neanche a tenere il collo dritto nel senso non hanno neanche la forza fisica sono in balia di questi adulti e l'unica cosa che fanno è piangere quando sentono dolore piangono anche noi eravamo così quando eravamo piccoli sentivamo sofferenza piangevamo le nostre illusioni venivano rotte piangevamo ci sentivamo male piangevamo poi piano piano abbiamo registrato che non va bene che non si può bisogna entrare grandi quindi la mente ha cominciato a schiacciare il nostro piano emotivo schiacciando il nostro piano emotivo abbiamo acquisito che cosa il controllo la gestione delle emozioni ma questa gestione delle emozioni crea la separazione interiore che viene trattata nel libro ok la separazione interiore cosa fa ti fa sentire appunto la mancanza di gioia di vivere la vita perdiamo la magia del vivere e quindi abbiamo bisogno di stimoli potentissimi per sentire qualcosa e questo è il campanello d'allarme non riuscire tant'è che dicono che la felicità sta nelle piccole cose che sembra assurdo in realtà sta nel percepire le vibrazioni sottili della realtà quindi vedere la magia ovunque guardi un albero non vedi solo della corteccia con delle foglie ma vedi un essere vivente con un'energia con un'aura ti trasmette un sacco di cose se entri in relazione animica perché un essere vivente come te è che quando stai male non te ne frega un cazzo gli daresti fuoco no? è quello il problema grazie per avermi permesso di toccare questo argomento che è molto importante Carmelita ciao io pensavo si entrasse in quarta e quinta dimensione dopo la morte corporea allora Carmelita tu avendo la vita dentro ok hai Dio dentro nel senso potenzialmente tu hai tutte le porte aperte per vedere tutte le manifestazioni del creato pensa a te il discorso è che non ne hai coscienza e non abbiamo coscienza non è che io ce la magari ok e quindi noi vediamo quello che vediamo riconosciamo poco nulla del creato ma il creato è in noi è fuori da noi e al tempo stesso è in noi ok e quindi è vero che dopo la morte torni in quinta dimensione ma ci sei già perché l'anima non avendo spazio tempo è simultaneamente cioè sei simultaneamente viva e morta per lei che è assurdo se ci pensi perché il tuo corpo vive lo spazio e il tempo l'anima è immortale quindi è fuori dallo spazio tempo è in un altro piano dimensionale quindi tu sei simultaneamente viva e morta per lei è un po' assurdo no? e quindi ci sei già tant'è che Antonio parlava di sesta Sandra ciao caro c'è chi dice che quelli che noi conosciamo come arcangeli siano alieni e Sandra anche qui io purtroppo non entro in merito perché non mi è stato detto niente riguardo quindi potrebbe essere come no non mi sento di esprimermi perché non voglio creare immagini o pensieri o idee su cose di cui non ho una certezza interiore cioè io vi porto quello che sento a volte vi porto quello che penso qui sarebbe darvi un'opinione che non ho gli elementi proprio non li ho e quindi riporto quello che dici tu e non ti so rispondere oh ciao ciao buona creatura vivo sbattuto a destra e a sinistra dalla vita senza volontà come faccio a ripartire non vedo niente mi sento senza timone beh sei in un buon momento nel senso che quando perdi il timone e non hai direzione l'unico luogo dove puoi ricominciare è dentro di te non hai alternative abbiamo appena detto prima bisogna ripartire dal proprio vissuto dalle cose che ti hanno fatto soffrire dagli eventi che ti hanno fatto sentire sbagliato inadeguato incapace incompetente non amato ok rientrare dentro quegli episodi e risentire e rivivere queste cose e piangerle urlarle buttarle fuori è un po' come quando fai l'indigestione a volte o esci da sopra o esci da sotto noi abbiamo fatto un'indigestione di sofferenza e ce la teniamo stretta lì e stiamo male a un certo punto la dobbiamo buttare fuori l'atto di amore sta nel buttare fuori far uscire il dolore c'è un capitolo apposto per fare questo lavoro bisogna accettare l'aiuto ok tu Nick ricorda che non sei da solo nella tua vita lo dicevamo prima c'hai un'anima dentro c'hai Dio dentro c'hai gli angeli chiedi aiuto a loro accetta il loro aiuto permetti loro di operare dentro di te quindi il tuo lavoro deve essere non tanto guardare dove andare fuori c'è fuori che cos'è c'è che cos'è la terra una geosfera quindi una sfera gigante tridimensionale dove gli umani hanno costruito case palazzi e sviluppano oggetti servizi fine questo è in soldoni quindi l'umano manipola la materia e tu entri in relazione con quegli umani che manipolano la materia al tuo livello di coscienza nel senso probabilmente tu non andresti mai in un'azienda che magari costruisce telescopi perché magari non ne hai le competenze ma se sei ingegnere edile andrà in contatto con tutte quelle persone che costruiscono abitazioni ponti muri case ok cioè noi non vediamo non possiamo entrare in relazione con tutto e quindi quando guardiamo il tutto ci sentiamo persi noi abbiamo una certa frequenza che ci caratterizza allora dobbiamo vivere con quello che abbiamo con quello che siamo e quindi dobbiamo ripartire sempre da ciò che siamo e piano piano permetterci di scoprire nuovi pezzi di noi e come facciamo dobbiamo darci tempo spazio ascolto scrivi io quando devo entrare in contatto con le guide magari non faccio le canalizzazioni o non parlo con voi quindi per fra virgolette dovere no entro in quinta dimensione per farvi vedere delle cose il mio modo migliore è scrivere quindi parla Federico con tutti i suoi problemi umani con tutta la sua visione limitata e poi aspetto un attimo e mi metto in ascolto e lascio che le guide scrivano attraverso me quindi sento quello che loro vogliono farmi scrivere e lo interpreto a volte scrivo delle cazzate quindi devo cancellare a volte invece la canalizzazione arriva diretta e quindi sento cose potenti che poi alla fine mi fanno piangere quindi quel dolore che magari provavo prima che non ero in grado di far uscire da solo grazie alle guide viene fuori io uso questo metodo qua abbastanza semplice ti serve solo un pezzo di carta una penna e stare un po' da solo poi il posto non ha importanza tanto Dio è dentro di te quindi ti troverà sempre anche se ti nascondi in una miniera in cima a un monte e sotto il mare o in un altro pianeta Stefano io mi sento una scimmia una scimmia che osserva gli uomini nelle gambe dei loro zò mentali boh fantastico Stefano e sì è quella è vero purtroppo e per fortuna è così Stefano noi viviamo tutti in prigioni mentali da una parte è un bene che ci siano perché senza controllo certe scimmie farebbero il disastro allora la gabbia mentale serve a tenere la scimmia al suo posto ordinata e controllata la diversità è che se hai coscienza puoi uscire dalla gabbia se non hai coscienza resti in gabbia è un sistema cioè lo so che può sembrare crudele ma guarda estendi questa cosa a 8 miliardi di scimmie se questi 8 miliardi di scimmie fossero lasciate senza controllo consumerebbero tutte le risorse distruggerebbero tutto capisci? è necessario perché chi ha coscienza ha rispetto e amore per se stesso per gli altri e per il pianeta prende ciò che gli serve come fanno gli animali guidati solo dall'istinto e non dalla ragione il leone non è che ammazza 5 prede perché ha una bocca sola e ha uno stomaco solo se ne ammazza una si nutre di quelle si nutre anche il branco l'essere umano invece per svago per gioco per divertimento fa va a caccia e fa una strage e quindi è giusto che stia in gabbia capisci? e non è cattiveria è un sistema di equilibrio ma in Gumprovira ci dicevano per ogni essere esiste il suo regno e allora bisogna riconoscere in quali regni stanno gli altri e in quali regni stiamo noi è chiaro che ci viene magari da giudicarli no? però non ha utilità nel senso loro sono esseri in evoluzione come lo sei tu e come lo sono io cioè io ogni tanto mi immagino ci sono quelle foto dell'angelo custode che è così quando faccio una cazzata è un tipo di riconnessione scusate si è disconnesso un attimo ci siete ancora? spero di sì e quindi cioè se noi ci vedessimo con gli occhi degli angeli si farebbero delle grosse risate nel senso ovviamente loro no ci amano non ci giudicano no? ma se ci guardassimo con la nostra visione con la loro coscienza che dovremmo dire di noi stessi? delle nostre piccolezze delle nostre giustificazioni illogiche che siamo fatti così poverini bisogna imparare ad amarci e quindi a un certo punto quando impari ad amare hai compassione per questi poveri esseri si vede la tua luce grazie grande fede un abbraccio a te Enrico perché io Gloria non so perché io vero? Gloria perché percepisco sempre disgrazia oddio dovresti affettarmela un po' e magari sei sei chiamata a fare altro no? a sentire a sentire le tue quelle che ti sono capitate a te a volte sai siamo no punti quindi portiamo viveri per gli altri o informazioni di coscienza per gli altri o aiuto per gli altri ma a volte ci serve a noi vedere la disgrazia la sofferenza perché ci mette in risonanza con la nostra sofferenza ok quindi si chiama legge di risonanza troviamo degli specchi per le nostre parti inconsce che non riusciamo più a vedere o abbiamo deciso di nascondere di seppellire grazie Maria ciao Donatella Vicky allora ciao anche io la prima volta che ti ascolto mi ipnotizzi con la tua voce mi incanti e dici cose davvero interessanti avrei un sacco di domande ma non finirei di scrivere fino all'anno prossimo ah grazie e vabbè fai solo quelle più che ti toccano di più così facciamo prima Nadia ciao buonasera Maria anche uccidere insetti mangiare carne e pesce crea karma allora Maria le guide mi hanno scritto sei ancora ben lontano dal nutrirti di luce ok nel senso quando parlano della terra e l'uomo dicono nutrimento e sacrificio questa terra è selvaggia è un mondo dove le creature hanno ancora bisogno di nutrirsi e non sono tutte vegetariane nel senso gli animali si mangiano tra di loro le piante stesse se voi pensate alle piante parassite no che le ederano si nutrono delle altre piante cioè noi qua ci mangiamo gli uni con gli altri anche energeticamente ci nutriamo dell'attenzione altrui e quindi a un certo punto è chiaro puoi scegliere di diventare vegetariana vegana fruttariana però anche le piante hanno un'anima nel senso anche loro sentono che te mangi i sassi anche i sassi hanno un'anima hanno un'energia hanno un corpo energetico aurico quindi paradossalmente dovresti vivere di niente il problema è che in questa dimensione siamo scimmiette e le scimmiette mangiano cagano tanto come gli altri animali e quindi alla fine è così cioè non si scappa io non ho ancora conosciuto gente che vive di luce chiaro che puoi scegliere di non mangiare gli animali sopravvivi lo stesso diventi vegana ti prendi le vitamine le proteine e ciao e quindi gli animali non li uccidi è una scelta etica che non crea sofferenza agli altri animali crea un po' sofferenza alle piante ma è male minore finché a meno che non ti vuoi nutrire di pillole basta di vitamine sali minerali di proteine e di carboidrati però diciamo questo mondo è fatto così cioè il corpo è fatto così non si scappa non si può almeno al momento non si può poi se trovi in rete qualcuno che vive di energia li chiamano qualcuno respiriani provi e vedi come va io ti faccio un esempio quando andavo in palestra tanti anni fa mi avevano fatto una dieta a base di petto di pollo e io e bianchi d'uovo e seguivo questa dieta per avere il fisico un po' più palestrato pensate come ero messo bene come sto messo bene e quando ho fatto il mio primo festival del benessere sono venuti nel mio stand i vegani a parlarmi e io lì non capivo poi piano piano facendo la spesa un bel giorno guardo sul tapirulano della cassa e vedo impilati tutti questi petti di pollo e lì mi sono venute in mente le parole dei vegani e mi hanno detto e mi sono detto ma Cristo Santo tu per essere più fighetto in palestra ti fai una strage di tutti questi animali ma quanto sei deficiente capisci io ho smesso di comprarla non la compro più e compro le proteine vegetali e allora pagherò karma non te lo so dire fino a dove il karma agisce però è probabile che qualcosa io debba scontare se creo della sofferenza al prossimo capisci però c'è un è insito nella vita il nutrimento qua non si può scappare da quello allora carmelita chiedo se sai cosa succede agli animali quando muoiono ho perso il mio amato cane domenica e lunedì mi è venuto in sogno beh carmelita gli anima animali anima sono anime in forma quadrupede ma sono sempre anime quindi anche loro stanno in quinta dimensione come ci stai tu sono forme di vita hanno il loro processo evolutivo come ce l'hai tu chiaro hanno sono dominati dagli istinti principalmente no il loro ragionamento non è come il nostro ma vuoi dirmi che non hanno cuore vuoi dirmi che non hanno sentimenti vuoi dirmi che non provano amore lo provano e come hanno adorazione il cane ha adorazione per il suo padrone ha un amore sconfinato è felice te lo fa sentire sempre e quindi la sua anima non è che scompare nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma semplicemente si reincarnerà magari in un altro cane poi piano piano farà altre esperienze fino a quando tornerà nel cambierà regno e diventerà un uomo magari nascerà come bambino morirà subito perché non sarà pronto e piano piano comincerà a fare il suo percorso tutto torna a Dio sempre e tutto è in Dio sempre grazie Ilaria mi fa piacere di aver bussato un po' il tuo cuore e mi dici che ti sei commossa ciao Laura carissima anche tu allora io sto imparando a volermi bene e automaticamente voglio bene a chi mi rispetta le persone negative gli mando tanta luce e chiedo all'oltre di aiutare tutti beh Laura sei messa meglio di me complimenti io sono ancora di quelle persone che si incazzano pensate come sto messa e quindi continua così caspita se riesci a essere sempre così con le persone anche che non ti rispettano allora complimenti veramente nel senso io non sempre riesco a avere compassione sono ancora abbastanza così focoso poi per carità magari è solo no un'energia pensiero una parola che mi scappa tra me e me non tanto di fronte le persone quando ho una persona di fronte è fatica che che la tratti male nel senso tendo che altro magari a a un certo punto a chiudere la comunicazione ma cerco sempre di ascoltare non amo molto le persone che stanno in testa quindi energeticamente sono qua e continuano a mantenere quella frequenza e quindi ti portano per risonanza nella mente ok perché la comunicazione avviene per risonanza se tutti e due stiamo nella mente c'è lo scambio di opinioni ed è un ping pong infinito se invece uno sta nel cuore l'altro sta nella mente o lui scende o tu sali o se no a un certo punto chiudi un po' energeticamente te ne stai dentro e quindi non passano più i pensieri nel senso arrivano questo flusso di dati che è frutto di interconnessioni fra le informazioni che sono prive di presenza di coscienza e semplicemente dare aria alla bocca io quelle persone lì non le amo tantissimo quindi a un certo punto chiudo la comunicazione ma non è cattivere semplicemente non voglio dare spazio all'ego perché chi sta in testa fa fatica ad andare nel sentire proprio perché il suo dolore è tanto elevato che si è blindato nel cervello e da lì non si vuole muovere e visto che esiste il libero arbitrio tu non puoi obbligarlo allora l'unica soluzione è chiudere il contatto però tu in questo caso mi sei di mi sei di di esempio ciao ciao allora aurora noi siamo dentro Dio e lui è anche dentro di noi sì 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 noi siamo una particella di Dio e come l'esempio che mi hanno fatto le guide mi dicono immaginano che tu sei un globulo rosso un globulo bianco e cerchi di interrogarti su chi è Federico la dimensione che ha il globulo rosso o la piastrina il globulo bianco confronto a Federico che sta parlando con voi è un paradigma paragonabile all'io Federico e a Dio cioè noi siamo così tanto incapsulati nella creazione siamo così microscopici che non abbiamo neanche la capacità di immaginare Dio cioè non ci arriviamo è come se la formica dovesse fare un trattato di ingegneria nucleare povera stella è un'altra dimensione che mi ve lei e quindi è così però avendo Dio dentro Dio può parlare a te al tuo livello di coscienza e farti fare il percorso evolutivo questa è la cosa bella perché noi non possiamo sintonizzarci sulla coscienza di Dio ma Dio si può sintonizzare sulla nostra coscienza e quindi questa relazione è sempre disponibile Silvi nella prima volta ti ho catturata wow adesso ti lascio andare non ti volevo catturare scherzi a parte mi fa piacere che di esservi d'aiuto nel senso di esservi utile alla fine è una chiacchierata fra amici dove condividiamo un po' no? questo uomo multidimensionale perché dobbiamo capirci scoprirci vedere tante cose di noi siamo veramente una torta miliardi di foglie allora candida io da pochi giorni ho perso mio fratello eravamo molto in sintonia sei anni fa ho perso mia figlia una bellissima e bravissima ragazza due laure ventisei anni ah scusami ventisei anni fa mio marito molto giovane chiedo perché tutti questi lutti perché a me perché mi è toccata una vita così terribile e sei entrata in relazione con la morte con tutti i piedi sicuramente quello che sei costretto a fare è vivere la perdita questo è un dato di fatto il primo passo è quello ok e poi devi cominciare a trascendere l'umano a volte avvengono i lutti per toglierci dall'illusione dei sensi della terza dimensione quindi tutti questi morti ci portano alla ricerca della vita del significato della vita ok e ci aprono attraverso l'esperienza di sofferenza ai regni superiori e a quel punto tu puoi sperimentare la loro energia dentro di te è una relazione che continua in un altro piano dimensionale è chiaro che è tosta perché insomma hai avuto tanti lutti però questo è il percorso che ti tocca ma non è una punizione ripeto non esiste la punizione esiste il mezzo per evolvere probabilmente in questa vita la tua anima ha voluto aprirsi a tutti i costi alle altre dimensioni come coscienza e quindi tu sperimenti questo la relazione con la morte e con i morti per riconoscere che non muore veramente nessuno nel senso il corpo muore ma la firma energetica dell'anima è immortale e visto che le anime dimorano tutte nello stesso luogo tu puoi continuare questa relazione anche a distanza ma dentro di te puoi sentirli puoi parlargli puoi udire le risposte è tutta una scoperta del tuo mondo interiore perché attraverso loro hai delle ancore ok hai dei punti fissi nell'altro piano dimensionale e quindi puoi fare un grandissimo lavoro magari potrai diventare una grande medium potrai essere di aiuto a tante altre persone devi solo avere il coraggio e la forza di entrare dentro il tuo dolore perché ce n'è tanto e si sente mi dispiace tanto caro e cercare di farlo uscire il più possibile e poi piano piano prendere contatto con loro e cominciare ad ascoltare e vedrai che sentirai e sentirai dentro di te e quindi verrai stupita dal miracolo della vita nuovamente e questa è una promessa Stefano allora solo il fatto di essere qui da ascoltarti deve farci rendere conto di quanta sete abbiamo di cambiamento non è da tutti io mi sento orgoglioso anche se spesso mi sento alla deriva vabbè scusatemi se n'è andato ah eccolo qua mi sento alla deriva ma so che questo fa parte del cammino e si Stefano cioè noi cerchiamo specchi che ci rimandino pezzi di noi e voi attraverso me entrate in contatto con gli esseri di luce che è quella parte di voi che vuole andare verso l'amore che vuole uscire dall'illusione che vuole aprirsi negli regni superiori cioè io in questo caso divento uno specchio è chiaro non sono pulitissimo perché in me sono sempre umano però io cerco di mandare questa energia che è quella che mi è stata donata come informazioni per riuscire a trascendere un po' la mente perché comunque il momento storico è abbastanza difficile per chi vive solo in terza dimensione e ha soggettato i sensi e quindi è preda di questo incubo terribile e quindi è normale un po' perdere come come dici tu sentirsi alla deriva ma in un certo senso è così cioè a un certo punto quando lasci andare le illusioni quando lasci andare l'immagine che hai di te quando lasci andare l'immagine che hai della realtà e perdi tutti i riferimenti cioè tutto ti accorgi che tutto sta in piedi fra virgolette per uno stuzzicadenti e quindi dici ma che senso ha tutto questo e il senso lo ritrovi dentro non troverai fuori il senso della realtà perché bisogna accettare il fatto che essendo scimmiette non siamo in grado col nostro cervellino umano di farci entrare tutto il creato dentro tutta la realtà che esiste tutti gli esseri che stanno lavorando in questo mondo e negli altri mondi e quindi quando noi ci apriamo a questo tutto ci sentiamo delle foglie in mezzo a un oceano in tempesta allora cosa bisogna fare avere fede ok avere fede in cosa nella propria voce interiore nella propria guida interiore perché ne sei stato dotato dicevamo dentro hai la vita e quindi dentro hai Dio e quindi dentro avendo Dio chi meglio di Dio sa perché esisti se non vuoi scomodare Dio chi meglio della tua anima sa perché sei animato quindi sei vivo allora ti devi sintonizzare sulla tua anima sulla tua voce interiore devi prenderti il tuo spazio devi fregartene nella fine di quello che diciamo noi noi siamo gente che fa bla bla ti raccontiamo i pezzi di nostra vita e tutti vogliamo dipingere la nostra realtà come una realtà assoluta ma è sempre relativa ok non è che Federico ha visto i regni superiori e cazzarola sono fatti così ragazzi io ho visto uno spiraglio grande così e ho decodificato con sta coscienza grande così capite cioè ridimensioniamoci un pochettino l'assoluto è l'assoluto il relativo è relativo quindi noi di fronte all'assoluto siamo foglie in mezzo alla tempesta ma questo assoluto è amorevole e allora se ci sintonizziamo su questa energia questo assoluto ci conduce quindi questa tempesta si trasforma in mare quieto il nostro lavoro più grande è fermarci ed ascoltarci per questo bisogna fermare la mente per questo esiste l'ascolto del cuore perché ascoltando il ritmo ascoltando la frequenza del battito ci sintonizziamo sull'energia della nostra vita e la vita ha un ritmo lento il cuore fa massimo tre battiti al secondo ok il cervello fa 30 cicli al secondo le frequenze beta è un'altra dimensione è un altro modo di vivere l'esistenza per questo c'è la via del cuore ritorniamo un attimo detto in gergo diverso fly down voliamo bassi la mente vola troppo alto dobbiamo volare bassi dimorare nel tempio la nostra bella scimmietta è un tempio invaso da mercanti fuori mercanti dal tempio le spine che avvolgono il sacro cuore la sofferenza che ci preclude di sentire ok torniamo dentro togliamo il dolore togliamo le spine apriamoci all'amore e questo cambierà completamente la nostra vita è chiaro che poi tutto quello che c'è fuori continuerà ad esserci ok tutte le anime incoscienti continueranno ad essere incoscienti ma sarà diverso come noi ci relazioniamo a loro come noi percepiamo loro quando tu hai tanto spazio dentro di te non ti sentirai mai soffocare quando tu avrai imparato a bere alla sorgente dell'amore del tuo cuore alla peggio se non ci sarà nessuno con cui scambiarlo berrai dalla tua sorgente è chiaro che magari ti rattristerà un po' non poter condividere con anime affini ok e quindi continuerai la ricerca di anime in risonanza ma non ci sarà più quella affanno quella morte di persete perché avrai imparato a bere ed è una gran cosa imparare a bere al proprio cuore perché il primo atto di amore ti ami ti ami dandoti l'amore della tua vita e poi lo condividi perché la condivisione fa parte della relazione ah grazie per i curicini che mi mandate tutti ecco caro Ilaria mio figlio oggi ha dato un pugno in un muro aveva la mano gonfia e arrabbiato poi ha parlato con lui e mi disse che due amiche sono state violentate urca e poi piangeva forte e aveva odio per quei ragazzi cattivi che hanno fatto questo e lui sentiva il dolore di queste due ragazze ehi l'aria purtroppo così però come vedi bisogna imparare anche a rispettarsi perché se io do un pugno a un muro causa effetto mi spacco la mano e purtroppo non si è potuto cioè questo mondo ha ancora questo tipo di energia l'io che prevarica sul prossimo e non c'è amore e la mancanza di amore crea sofferenza lui probabilmente gli voleva bene questi ragazzi e quindi figurati cosa puoi provare se non un immenso dolore e poi il dolore crea rabbia certo perché vuoi vorresti cambiare le cose solo che sei impotente perché l'evento è già accaduto e quindi vivi nella frustrazione e sei costretto a entrare in contatto con queste persone che hanno vissuto una violenza e che le ha magari le segna poi per una vita purtroppo questo mondo è ancora così non solo abbiamo bisogno di mangiarci gli uni con gli altri ma siamo anche violenti con noi stessi e con gli altri per questo esiste il controllo esistono le regole esistono le leggi esiste la mente per cercare di arginare questo io che l'io è alieno nel senso è estraneo all'empatia estraneo al corpo capite la fregatura della mente è questa che si sente si sente separata dall'incarnazione si sente sovrannaturale perché appunto sente la vita e si crede di essere Dio ma è l'io è l'io è una sovrastruttura mentale un'idea che abbiamo noi della realtà e di noi stessi e quando io credo di essere onnipotente poi faccio fare al mio corpo tutte quelle azioni che sono tipiche dell'ego la violenza il sopruso e tutte queste altre brutte cose purtroppo è così l'unica cosa che puoi far fare a tuo figlio è farlo piangere così si sfoga un po' dal dolore senza spaccarsi le mani perché se purtroppo non non si torna indietro di fronte agli eventi nel senso ormai sono accaduti e quindi non può intervenire e rivivere mentalmente quella cosa lo farà solo stare male quindi al massimo puoi abbracciarlo tenerlo stretto e cercare di farlo sfogare non con la rabbia ma col dolore perché la rabbia sta sopra il dolore il dolore sta sotto ok quindi sotto sotto lui sta male quindi vorrebbe piangere solo che il prima la prima energia che viene fuori è la rabbia l'incazza profondo poi c'è il dolore quello dell'anima dove appunto poi viene fuori il pianto no? il pianto liberatorio Laura cara allora le persone che vogliono prevaricare su un'altra persona le saluto con un semplice ciao loro a destra e a sinistra è un'ottima filosofia vivi e lascia vivere sì sì se riesci sì ti fai la tua strada e le lasci nel loro percorso quando invece ce l'hai nel lavoro nel sistema familiare le cose si complicano un po' ed è lì che bisogna lavorare solo nel senso che lì devi cioè quando sei costretto a stare in un ambiente fra virgolette tossico a parte che diciamo parlo parlo per assolutismo nel senso nessuno è obbligato a stare in un ambiente tossico nessun adulto ok noi possiamo sempre scegliere di andarcene è chiaro che ci sono conseguenze sempre e quindi a volte sono toste da affrontare le conseguenze delle nostre azioni però noi possiamo sempre uscire da tutte le situazioni parlo di relazioni con gli ambienti tossici e quindi con le persone tossiche o se no se proprio dobbiamo resistere la soluzione è non stare qua ma stare nel sentire quindi stare nel nostro mondo interiore a quel punto lì gli altri parlano e tu sei dentro e quindi le loro parole non ti feriscono più magari ti toccano e quindi senti in te la reazione ma stando dentro non è non c'è la manifestazione della reazione è una cosa che senti solo dentro tu e te stessa ma fuori non fai uscire niente diventi un vaso ermetico vedi così questa è una soluzione alternativa se invece puoi ciao le saluti e ciao ci vediamo nella prossima vita allora paola grazie mi hai fatto capire perché con talone persone mi viene da chiudere la comunicazione ecco sì 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 nel senso non quando uno sta in testa e da lì non si vuole uscire perché se no deve entrare in contatto con la sua sofferenza e non è pronto non ne ha voglia non sa come fare si barrica in testa e si crea tutto un mondo illusorio e quindi ti mangia vivo energeticamente perché quando tu senti lui per risonanza sente quell'energia d'amore e quindi in un certo senso cerca di nutrirsi di quell'amore e allora ti tiene lì perché sente questa energia è come se tu fossi una pomata sulle sue ferite vuole continuamente che gli attenui la sofferenza il discorso è che cioè quelli possano stargli delle ore invece bisogna imparare no prima ti do il pesce poi ti insegno a pescare e che quando non sono pronti non si può fare molto nel senso puoi essere ad esempio li ascolti un po' poi li saluti gli fai sentire che è possibile vivere in un altro modo a volte non è neanche necessario parlare perché il tuo corpo energetico no l'aura parla con la sua aura e si scambiano tutti i dati che servono quindi lui percepisce che è possibile anche vivere diversamente anch'io ho un figlio di 29 anni nell'oltre non lo vedo ma lo amo come quando era con me con noi se lui è con Dio non è solo togli se caro Laura togli se Dio è dappertutto Dio avvolge comprende tutto ciò che esiste esistito ed esisterà non esiste il tempo per Dio ok in questa dimensione esiste ma lui non è solo in questa dimensione e le anime non sono solo in questa dimensione sono anche in questa dimensione quindi tutto ciò che è vivo è vissuto e vivrà è sempre lì nell'eterno presente e quindi come dicevo prima tuo figlio è sempre lì la sua energia la sua anima è sempre lì a fianco alla tua a fianco simbolicamente perché non essendoci corpo non c'è neanche spazio sono sovrapposizioni potrebbero essere strati energetici onestamente non so neanche come raffigurare ogni tanto ci penso e dico ma come cazzarola staranno fatte ste anime nel senso ma se sono energia come fanno ad essere dissonanti con l'energia dell'amore di Dio mi arrovello il cervello poi dico vabbè fede non ce la puoi fare lascia perdere allora faccio questi esempi simbolici perché vi ripeto non so come sta messa la realtà di là e penso che non sia neanche possibile la mia mente capirlo e quindi ci accontentiamo di qualche piccola immagine però quello che so che almeno sono riuscito a riconoscere no? è che non esiste la separazione non esiste la morte dell'anima nel senso tutto è in Dio tutto è Dio Dio è perennemente presente e cosciente in tutti gli esseri quindi Dio è simultaneamente se stesso e noi ok quindi Dio ha simultaneamente coscienza di sé e non ha coscienza di sé perché io non ho coscienza di me quindi se Dio è me Dio non ha coscienza di sé ma al tempo stesso ce l'ha e tu ti metti a pensare a questa cosa e dici ma che cazzo ma come è possibile però è così che vi devo dire va bene andiamo avanti va se no qua si arriva al cervello Anna grazie di cuore ho avuto anch'io lutti molto forti in particolare l'ultimo spesso scrivo parole che mi pare giungono da questa persona molto cara e a cui ero legatissima scusami ho perso il segno ecco a volte mi chiedo se davvero lui o se è frutto della mia mente per autoconsolarmi cara Anna benvenuta nel dilemma di tutte le persone che fanno canalizzazioni ma sono io che mi racconto le cose punto interrogativo la risposta è quando scrivi per conto suo che cosa senti quello è la verità quello che pensi è un'altra cosa ricordati sempre che la verità si sente perché dicevamo due secondi fa che Dio vive in noi e Dio sa tutto vede tutto conosce tutto è in tutto e quindi quella parte di Dio lì ti dice che è vero e allora quando quella parte ti dice che è vero è vero è un lavoro di ascolto anche questo è un lavoro di ascolto profondo e quando sei nel dubbio va bene resta nel dubbio la rifai finché non ti togli il dubbio tanto sono modi per contattare comunicare condividere la verità la senti sempre perché suonano risuona la menzogna invece ti lascia nel dubbio oppure l'indecisione o aver sbagliato fra virgolette a canalizzare ti porta nel dubbio ti dici magari hai scritto una cazzata però se la senti vera va bene cioè paradossalmente no dal momento torniamo al discorso originario quindi all'inizio di questo uomo multidimensionale dal momento che non vediamo non sentiamo non odoriamo non odiamo abbiamo dei filtri giganteschi interpretiamo la realtà viviamo nelle illusioni siamo vittimi dei sensi viviamo una sofferenza scontiamo debiti carmici dobbiamo imparare ad evolvere cioè vista tutta questa roba ma anche se ci raccontassimo due storie in più ma ti cambia veramente così tanto la vita capisci se quello che fai mentre lo fai ti fa sentire quella relazione che ti dà quello che ti fa stare bene ma anche fosse una micro illusione non sarebbe una cosa bella lo stesso poi tanto la realtà cioè la vita è maestra e quindi quando noi sconfiniamo nelle illusioni ci arrivano le sveglie su questo guarda non si scappa l'anima quando deve il percorso ti rimette in carreggiata quindi tu non ti preoccupare affidati a quello che senti se in quel momento senti che lui ti sta dicendo quella cosa tu la scrivi poi se hai i dubbi la cancelli né più né meno ok tanto ci sei l'aldilà esiste gli angeli esistono e chi muore muore fisicamente ma l'anima è immortale questa per me te lo dico per me è una certezza poi per me io la sento così e ti dico questo per me è una certezza assoluta non riesco non posso documentartela non ho le prove ma non mi interessa per me è una verità assodata no io l'amore l'ho sentito e lo sento e quindi ci sono per me ci sono lo so che ci sono e mi è capitato durante i consulti di sentire anche le anime dei diffunti degli altri per cui ogni tanto mi capita io non li tratto molto perché preferisco fare stare ancorato su altre frequenze ma a volte mi capita e il loro amore lo sento verso queste persone o la loro presenza la sento mi viene da dire una cosa che magari non è mia non mi appartiene o sento un amore o una voglia di abbracciare questa persona che magari non è mia e com'è possibile sei un canalizzatore e tu probabilmente sei una canalizzatrice sei un ponte fra i mondi no? come lo sono tutti del resto solo che magari ne sei un po' più consapevole di tanti altri allora andiamo avanti candida grazie mille la tua risposta molto bella esauriente soprattutto molto vera ha parlato alla mia anima è vero quello che hai detto io da subito sono entrato in comunicazione con mia figlia hai visto che bello noi due eravamo in simbiosi mi ha comunicato dei pensieri bellissimi molto profondi che ho scritto in crisi di amore e luce che bello e si datti dalle spazio dai spazio se te la senti cioè non avere paura eh sì quello che mi sento di dirti è proprio di non avere paura non sei nulla di male anzi ti puoi essere di tanto aiuto per far uscire tanto il dolore della perdita perché è vero candida che l'anima è mortale che bisogna un percorso evolutivo e tanti bei bla bla ma poi qua cazzo qua pesa qua c'è dolore qua la perdita la paghiamo e allora è giusto lasciare spazio a tutte queste emozioni di sofferenza perché quando si si vivono tutti questi lutti poi si resta segnati quindi lascia spazio la parte umana di sfogarsi e di elaborare tutti questi lutti fino all'ultima lacrima ma al tempo stesso visto che ormai vedi e sai perché l'hai appena scritto tieni quella porta aperta e lascia chissà che questa famiglia si riunisca sotto altre forme chissà che cosa potrai fare tu per noi con quello che puoi scrivere con informazioni di coscienza potrai portare o di quanto aiuto potrai essere anche agli altri perché è vero che io stasera sono qui a parlare fra virgolette delle mie guide di questi regni superiori ma per il semplice fatto che io lo sto facendo sono ad aiuto a voi e sono ad aiuto a me stesso perché entrambi stiamo guardando questa cosa quindi siamo in risonanza su questa energia diversamente avrei fatto altro la mia attenzione sarebbe andata altrove mentre stasera guardiamo tutti queste cose importanti che sono che vanno a toccare il cuore quindi voi siete un bellissimo specchio io vi ringrazio veramente tanto Fabio grazie fratello è un lavoro preziosissimo ti abbraccio forte l'amore vince sull'illusione della mente l'amore vince sull'illusione della mente pace a tutti ah grazie Fabio sei un caro ti porto qua Daniele grazie sagge parole Federico ah grazie Cristina amore è la parola più potente dell'universo eh sì Luis tant'è che le guide mi dicono vita realtà amore e Dio sono sinonimi della stessa energia che tutti viviamo sperimentiamo ma ci è inconoscibile la possiamo solo sentire la possiamo solo vivere ma non la possiamo comprendere ok non la possiamo contenere dentro di noi è lei che contiene noi e quindi a un certo punto sì ne puoi sentire la potenza è quella cosa che ti fa fare ti fa meravigliare della vita e l'amore è la sua massima espressione è un sentimento bellissimo grazie Luis grazie grazie Ilaria a te Anna grazie Federico ragazzi questa bella diretta sì io ragazzi non so neanche che ore sono sono le 23 e 59 anch'io ho un figlio di 29 anni nell'oltre non lo vedo beh allora il concetto di vedere non è necessario che ci arrivano le immagini mentali capite a volte basta semplicemente sentire quell'energia cioè non tutti vedono ci sono dei medium che hanno proprio le immagini che gli arrivano nella mente io per esempio il grosso del libro l'ho sentito molte volte invece ho visto delle immagini che ho interpretato ma non è detto che noi vediamo i nostri cari a volte ne sentiamo solo l'energia o li riconosciamo sappiamo così c'è una parte di noi che sa che sono loro quindi noi lì ci dobbiamo fidare del nostro sentire sempre allora Lina ciao è la prima volta che ti guardo perché alcune persone si sentono di essere al centro dell'universo facendo male a chi sta attorno le guide mi dicono questo nel libro le persone che soffrono portano attorno a loro la sofferenza molto semplicemente e che è ricollegabile con ama il prossimo tuo come te stesso perché se tu non ti ami quindi non hai rispetto per te per il tuo stato emotivo per i tuoi sentimenti per le tue vibrazioni sottili come puoi averne per il tuo prossimo quindi se io tratto male me tratto male te se io vivo nell'inferno ti porto nel mio inferno è la legge di risonanza ok quindi uno è la sofferenza e l'altro l'assenza di coscienza perché fra virgolette è la stessa cosa nel senso quando parlano di coscienza cristica Cristo è amore cioè un essere evoluto è un essere amorevole perché ha messo da parte l'ego l'io l'io è l'energia psichica che guarda la separazione ma se tu hai trasformato tutto il dolore in amore non sei separato sei integro in te stesso ok e quindi la conseguenza del far male è proprio l'incoscienza e il proprio dolore inascoltato e inespresso allora Anna che bello ascoltare le tue parole che sgorgano direttamente dal cuore e ci dare un conforto e speranza grazie a te Anna grazie grazie Mirella mi piace ciò che trasmetti Stefano un abbraccio mi corico è stato bellissimo essere qui grazie Stefano sì effettivamente vi ho fatto fare un po' tardi mi so è già mezzanotte adesso finisco di leggere e poi vi saluto perché tanto bene o male un pochettino di cose le abbiamo toccate stasera poi se avete bisogno ci risentiremo magari faremo altre dirette assieme allora sì fratello io lavoro da 30 anni in ristoranti ipertossici e ho fatto naturalmente sempre così tutti a chiedermi come faccio a mantenere un tale equilibrio in un simile inferno ed io rispondo sempre che l'equilibrio è dentro fantastico Fabio sei un bel sei il faro in mezzo alla tempesta fondamentalmente portatore di luce in mezzo al buio e la sei scelta in bella impegnativa complimenti però per quello che ti sentono hai anche la forza per farlo per cui sei supportato sempre e sì si sentono qua belli come il sole c'è un sacco di angeli qua dentro che si fanno sentire c'è una grande una grande carica dentro di aiuto continua così c'è bisogno anche di queste energie che riescono a stare dove dove c'è tanta pesantezza per far vedere che è possibile vivere diversamente nonostante tutto Laura e i trapassati sono luce sono le stelle che vediamo in cielo sono nel tutto sì bello grazie Gloria Silvi la tua conoscenza è infinita come la tua unità beh Silvi magari infinita è una parola troppo rossa troppo troppo rossa c'è ci sono così tante le cose da sapere appunto infinite il relativo non comprenderà mai l'assoluto mai a me piace conoscere una vita che studio cose mi interessa ma come mi scrivono le guide perché me l'ha scritto a me le informazioni senza amore non servono proprio a nulla sono semplici dati occupano un sacco di spazi e fanno fare aria alla bocca mentre se le parole sono usate per amore possono aprire tante porte veramente tante e allora così cerco di fare del mio meglio allora come si fa a non lasciarsi coinvolgere in discussioni che rovinano l'equilibrio e fanno perdere energia per far capire i concetti basilari che ti sta accanto scusatemi un secondo scusate e come si fa a volte non si può ricordati Maria che esiste il liber arbitrio quello che secondo me è la fregatura che Dio ci ha dato perché io gli dico ma Dio ma non potevi obbligarsi ad amarci e basta ma sai quanto casino avremmo risolto così e invece no ci ha detto vi lascio liberi e quindi c'è tutto questo disastro allucinante e che ci possiamo fare ragazzi è così noi non possiamo fare niente per gli altri se non ce lo permettono ci puoi provare perché comunque c'è sempre quel detto che giro su facebook no non sottovalutare mai l'idea di piantare un seme tu pianti il seme non sai mai che prima o poi germoglia quindi tu fai ma poi rispetta nel senso se la porta è chiusa puoi bussare un paio di volte ma se continui a bussare poi diventi una spacca maronina capisci quindi Maria bisogna trovare equilibrio anche lì perché io voglio che tu cambi a tutti i costi al fine devo accettarti così come sei magari faccio fatica magari non ci riesco e quindi la vita ti darà un certo feedback e tu dovrai riconoscere quel feedback lì perché ti arriva cioè perdi energia perché appunto stai stai parlando ai muri stai parlando ai sordi stai dando le perle ai porci come dicevano nelle parabole ai porci si danno le ghiante le perle non riescono a valorizzarle bisogna riconoscere il regno in cui quell'essere dimora e le energie di cui quell'essere si nutre se non è pronto a nutrirsi di un'altra energia non gliela puoi dare e quindi devi riconoscere il lavoro a un certo punto è nostro e poi non è necessario avere relazioni con gente tossica no? puoi sceglierlo può toccarti ma puoi sempre comunque scegliere di tenere una certa distanza nel senso fai quello che serve ma non non farti fra virgolette invadere ok perché loro hanno libero arbitrio ma ce l'hai anche tu e quindi tu puoi sempre scegliere cosa vivere nella relazione con gli altri non sei mai obbligato a fare niente e gli altri non hanno il diritto di te su di te nessuno ha diritto su di noi solo la nostra anima perché è l'energia che ci tiene vivi e quindi ogni tanto ci dalle famose svegliano lei è l'unica che ci comanda la nostra anima la nostra vita però come vedete ci lascia ampio margine di errore quindi è raro che ci metta in croce allora Lina anche per me è una certezza dal di là sono stata alla fine del tunnel e ho visto mio fratello una sensazione bellissima esiste esiste fantastico ho avuto esperienza esperienza che mi danno sempre più certezza ma non avevo bisogno di vedere e sentire perché sin da piccola ho pensato che non ha senso nascere e morire basta ne sa eh già Lina sapevi già e poi hai visto e hai avuto conferma oltretutto bella bella testimonianza grazie allora Patrizia bellissimo ascoltarti grazie per questa diretta grazie a te allora ciao complimenti per la diretta a volte vedo delle scintille alle spalle di alcune persone cosa vuol dire che non sono sole nell'universo nel senso anche a me capita energia d'altronde sono veli ogni tanto dai veli passa la luce semplicemente ti ti ricordano che ci sono e poi lo sai tu il significato nel senso che lo senti richiamano la tua attenzione no il tuo sentire a volte ti richiamano proprio alla presenza interiore e quindi lo scopri dentro di te che cosa vogliono o cosa simboleggiano ilena cara cara federico è stato bellissimo condividere questo presente con te sembra incredibile ma quando stai con te stesso il tuo presente la vita diventa meravigliosa ti voglio bene grazie è un tesoro eh sì noi con la mente ci proiettiamo no e quindi viviamo imperennemente ricerca attesa ansia e ci perdiamo proprio il miracolo della vita che sta lì e noi cerchiamo 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 ma è sempre lì in ogni minimo dettaglio in ogni bagliore di luce dietro le persone nella nostra stanza in qualche piccolo rumore che si genera dal nulla in un filo d'erba in un raggio di luce in un animale in un insetto quando abbiamo questa empatia per il creato ci mettiamo in relazione appunto col creato e con il creatore e quindi in quel momento ci sentiamo parte del tutto non sono più io ci sono anch'io insieme a tutto il resto è il lavoro il lavoro del sentire è proprio lì riconoscere l'amore in tutto ciò che esiste io non ce l'ho ancora fatta ma vabbè spero di riuscirci prima o poi ti abbraccio caro Fabio è la prima volta che ti vedo su questo piano ma ho la certezza sentendoti di averti già veduto e ascoltato grazie a te fratelli siamo tutti fratelli alla fine ciao Cristina buonanotte cara avrebbe voglia di abbracciarti sì abbracci gratis per tutti sempre ricambio cara gloria allora Nina bella domanda abbiamo risposto Lina come si fa a non farsi coinvolgere nelle discussioni allora spero che presto ci sarà un'altra diretta grazie con i signori qua di focus e ci metteranno ci metteremo un po' l'insesto magari faremo un altro evento assieme l'importante è che impariamo no a stare qua da qua a qua quindi pratica esercizio partiamo dal respiro ci concentriamo nel respiro e poi ascoltiamo il battito del cuore questo è il primo passo per uscire dal labirinti dai mercanti dall'alienazione ce ne andiamo qua e poi piano piano bisogna imparare a far uscire la sofferenza accettare l'aiuto delle proprie guide interiori e vedrete che la pace arriverà anche nei vostri cuori se non c'è e se c'è già continuerà arrivare e arriverà anche una marea di amore questo è fondamentalmente grazie Donatella grazie mi hai dato molte risposte cercavo da tempo bene bene amici dai adesso siamo arrivati ai saluti finali siete stati cari veramente belli 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 tutti è una bellissima energia quella di stasera e la devo a voi perché quando facciamo queste cose sento un po' l'energia dell'ambiente e mi si aprono certe porte piuttosto che altre stasera mi si è aperto tanto il cuore ed è stata proprio una bella magia vi voglio proprio bene grazie infinite veramente io vi ringrazio ancora ringrazio tutti quanti e che dirvi beh ringraziamo Enrico che ha creato tutto questo mondo per noi e ci vediamo presto vi auguro una buonanotte vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio ciao buonanotte